Vanno a girare il pallone molto bene Politano! Ha dimostrato una tecnica pazzesca Non è da tutti segnare un gol del genere Sicuramente uno dei gesti più spettacolari e difficili da eseguire Certo però non lo riesce come in questo caso La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione Tutto molto bello, l'assist anche molto oltre alla conclusione Una rete di pregevole fattura un gesto tecnico di quelli che riconciliano con il calcio